Successo di pubblico e critica per la prima edizione dell'Acquadolce Independent Film Festival, concorso internazionale per cortometraggi indipendenti, già insignito della certificazione di qualità Top Video 2008 da TuttoVigitale e conclusosi sabato sera presso il Teatro dei Giuseppini del Murialdo. La rassegna ha avuto il suo epilogo con la proiezione delle dieci opere finaliste brillantemente presentate da Christian Armao. A fare la parte del leone tra i lavori in gara è stato il film Compite in classe del regista barese Daniele Cascella. Il cortometraggio si è giudicato il premio AIF 2008 per il miglior cortometraggio, il premio Psycoland per il cortometraggio più votato dalla giuria popolare, nonché il premio della stampa già tributato lo scorso 31 agosto dalla commissione giornalistica accreditata al Festival. A Tana Liberi Tutti di Vito Palmieri è andata invece il premio MindMed 2008 per la migliore colonna sonora. Compite in classe è un corto difficile che parla dell'infanzia negata, violata e maltrattata, affermato il vincitore Daniele Cascella, presente all'evento, è già regista di seconda unità per Pupi Avati, Giuseppe Tornatore, Ettore Scola e Enrico Ignazzi, nonché vincitore del Giffoni Film Festival 2006. Accolto calorosamente dal pubblico in sale, il regista pugliese si è detto felice che il cortometraggio abbia toccato così intensamente il cuore degli spettatori. Nel complimentarsi con gli organizzatori, l'associazione turistica Proloca Quedolcese, preseduta da Francesco Ciambarella e la Psycoland, officina delle molteplicità di Antonino Giuseppe Valenti, scrittore e videomaker acquedolcese, nonché direttore artistico del Festival, il sindaco di Acquedolci, Ciro Gallo, ha definito il Film Festival di Acquedolci un'iniziativa culturale meritoria ed importante che proietta Acquedolci oltre i confini territoriali.